Possiamo partire dalla questione della giustizia, il governo mi sembra in difficoltà, quantomeno fa marcia indietro. Su che? Sulla giustizia e soprattutto. Io spero che non lo faccia sull'abuso d'ufficio perché con 155.000 bandi da fare sul PNRR dobbiamo assolutamente eliminarlo o comunque depenalizzarlo, spero che su questo si vada avanti. Per quanto riguarda invece la giustizia, lì anche, soprattutto Nordio, è stato in qualche modo sconfessato dalla stessa Presidente del Consiglio. Ma io credo che Nordio abbia dato un suo parere personale, non capendo che però quando dai un tuo parere personale e sei un ministro viene presa con una posizione politica. Questo credo sia stato un errore di disattenzione di Nordio. Però mi pare la questione conclusa.